Buona giornata amici di Fanno TV, oggi è sabato 12 novembre 2022 e bentrovati alla rassegna stampa, iniziamo insieme la giornata con la lettura dei giornali, come sempre a partire dai giornali con cronaca locale, il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, passiamo però sempre attraverso l'almanaco e vediamo chi è il santo del giorno, eccolo qua, vediamo che è San Josafat Konceviks, San Josafat era un vescovo, era nato a Polvez in Polonia, fu un uomo di penitenza, era un uomo molto mite, un uomo povero ma non di sentimenti, era povero di ricchezze, quelle sì, ma non di sentimenti, soprattutto di fede, camminava scalzo anche sulla neve, pensate, così per martoriarsi, fu un difensore della fede veramente accanito e per questo fu massacrato dai scismatici che assalirono il palazzo Vescovile e lo colpirono abbastonato, il suo corpo fu gettato nel fiume e in quel momento apparve una luminosità eccezionale, poi il corpo fu ripescato e fu tumolato in chiesa. Questo è San Josafat Konceviks. E vediamo anche le previsioni del tempo. Oggi i cieli saranno in prevalenza, poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, continua l'alta pressione a insistere sul nostro territorio. I venti saranno al mattino tesi da ovest, nord-ovest, al pomeriggio tesi da nord-ovest. Il mare è mosso, le temperature sono in leggera diminuzione, le minime sono di 11 gradi, le massime sono di 16 gradi. Ancora possiamo dirci fortunati perché non tutti ancora hanno acceso il riscaldamento all'interno delle proprie abitazioni. Ci ho detto, diamo subito un'occhiata ai giornali. A partire oggi dal Corriere Adriatico, vediamo il titolo di apertura, è un'iniziativa assunta dall'amministrazione comunale. È stato istituito il giorno del ringraziamento. Premieremo i volontari silenziosi, ha detto il sindaco Massimo Seri. I volontari silenziosi chi sono? Non sono quelle personalità, presidenti di associazioni oppure uomini politici, ma sono semplici cittadini che spontaneamente e gratuitamente soprattutto fanno il bene della città, fanno opere per semplicemente la loro vocazione di fare del bene. Il sindaco lancia il riconoscimento cuore comune, così si intitolerà, a favore dei fanesi impegnati per il prossimo. Questa iniziativa diventa istituzionale. Ogni anno si celebrerà a Fano il giorno del ringraziamento. Non è il giorno che si festeggia in America, è un giorno particolare per quanto riguarda quello che si fa nella città di Fano. Generalmente lo si festeggerà il 5 di dicembre, perché quello è il giorno internazionale del volontariato. Quest'anno, dato che il 5 cade di lunedì, lo si festeggerà il 4 dicembre. Che cosa accade il 4 dicembre? Il 4 dicembre, nel pomeriggio, si terrà un evento all'interno del Teatro della Fortuna, dove verranno premiati, con un premio simbolico, un trofeo a forma di cuore, quei volontari che sono stati segnalati per le loro opere dai cittadini, dalle associazioni, dalle organizzazioni. C'è tempo per segnalare questi nominativi fino al 19 di novembre. Basta segnalarli all'indirizzo del sindaco, sindaco Chiocciola, Fano.pu.it, l'indirizzo classico della posta elettronica del sindaco Massimo Seri. Potranno essere premiate un minimo di 4, un massimo di 6 persone e ci sarà un album dei benemeriti. Al via, dunque, domenica 4 dicembre, poi ogni anno sarà il 5 attese le candidature di tutta la città. Una bella iniziativa. E poi, a proposito delle giornate dedicate a un tema o a un altro, vediamo che domani si terrà la giornata del diabete. Diabete, monitoraggio e corretto stile di vita. Domani i controlli al Fano Center con FAND, l'associazione che si occupa di questo tema, lunedì nelle farmacie comunali. Che cosa occorre fare? Il diabete è una malattia purtroppo molto diffusa, avanza, si diffonde soprattutto con l'età. E cosa bisogna fare per contrastarla? Adottare un corretto stile di vita, che comincia dall'alimentazione sana e da una buona attività fisica. È un efficace modo questo per prevenire una malattia subdola e insidiosa, perché non dà segni, non si sente, non dà dolore, però mina il fisico costantemente. L'ha detto ieri Isabella Avantifiori, che è responsabile dell'associazione FAND di Fano, illustrando in una conferenza stampa in municipio, le iniziative per la giornata mondiale del diabete, vivere in modo consapevole aiuta a star bene. Questo è il monito che ci giunge da questa giornata. Dunque, che cosa si farà? Si farà un monitoraggio gratuito nel Fano Center, domani, il centro commerciale. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 saranno effettuate misurazioni della glicemia, rilevazioni della pressione arteriosa e della circonferenza della vita. Ebbene, anche il metro serve per rilevare un giusto, corretto, sano metodo di vita. Saranno inoltre fornite informazioni utili, qualificate sul corretto stile di vita. Sarà presente il diabetologo Giulio Lucarelli, che è responsabile per l'azienda Marche Nord appunto di questa malattia. Tassena borghese imbrattata. Non vorrei mai leggere articoli del genere, perché da una parte la città si abbellisce e dall'altra c'è chi invece la vuole deturpare. Ebbene, la bellissima passeggiata romantica che è stata inaugurata appena quattro mesi fa dall'amministrazione comunale era l'assessore Barbara Brunori, che si era occupata in modo particolare di questo provvedimento. Ed ora vediamo che i vandali si sono divertiti a sporcare le panchine con la vernice. Qui vediamo una vernice nera e una vernice rossa. L'annuncio è stato dato dall'assessore Brunori a tutela di un luogo appena riqualificato. Ora diamo la caccia ai vandali. Ci è voluto un anno e mezzo addirittura per riqualificare questa passeggiata e appena quattro mesi per rovinarla. Addirittura anche la passeggiata è stata sporcata con chiazze di vernice bianca che sono state seminate, lo vediamo qui in questa fotografia, lungo il percorso, lungo il terreno. Un'azione veramente vigliacca, così gratuita, per senza niente. Terme, nuove opportunità, asseconderemo il rilancio. Lo ha detto il vice sindaco Cristian Fanesi, che è anche assessore all'urbanistica, ieri ad un convegno promosso dal comitato per le terme presieduto da Beatrice Morbidoni. Il comitato si chiama Riapriteci, le terme di Carignano, proprio il fine di questo comitato che si lotta, che lotta per cercare appunto di ridare a Fano questa risorsa di carattere economico, di carattere ambientale e di carattere sanitario, ebbene l'amministrazione comunale cercherà di assecondare il più possibile i privati per realizzare questo investimento. Ieri è stato sviluppato questo tema da diversi relatori. Dopo l'introduzione di Beatrice Morbidoni è intervenuto il geologo Marco Carnaroli, esperto in gestione del settore termale. E' seguito poi il medico chirurgo e biologo Franco Canestrali, che ha parlato degli effetti curativi delle acque sulfure, soprattutto di quella molecola H2SO, che vuole un ruolo antiossidante e che quindi trattiene la vecchiaia, insomma non la fa progredire. Poi i due ricercatori, Raffaella Manna e Silvano Clappis, che sono impegnati a realizzare un libro sulle terme di Carignano e qualche anticipazione è stata esposta nella giornata di ieri. E poi le conclusioni sono state fatte dal vice sindaco Cristian Fanesi, che ha appunto parlato in senso urbanistico di questo nuovo progetto. E verranno fatti anche degli approfondimenti. Quali sono gli approfondimenti che ha enunciato il vice sindaco? Allora, in primis dovrà ovviamente intervenire e discutere il Consiglio Comunale. L'argomento delle terme è assente da lungo tempo nella civica assise. Attualmente il PRG prevede un comparto edificatorio di 20 ettari e bisognerà comunque approfondire l'aspetto sociale delle terme, soprattutto l'ingresso che non venga limitato soltanto ai benestanti. Occorre anche favorire le persone che non sono benestanti, che non hanno grandi opportunità di carattere sociale. Vediamo anche che si è fatto riferimento al tema dell'alimentazione di questo grande complesso che dovrà utilizzare le fonti geotermiche. Poi vediamo che le terme sono ovviamente un patrimonio della città e quindi devono essere rese, come ho detto, fruibili. Passiamo a Fossombrone. Sanità, regione sorda con Fossombrone. È il comitato che incalza Berloni sulle richieste politiche trasversali per l'ospedale, il sindaco Berloni. Il comitato per la riapertura dell'ospedale di Fossombrone chiede perché la regione non discute con il sindaco e la commissione sanità le richieste deliberate dal Consiglio Comunale? Ebbè, perché la regione ha un suo piano e vuole portare avanti questo. Questa è la risposta ovvia che si dà a questa domanda. Passiamo a San Lorenzo in campo. Polo scientifico agro-tecnologico, l'Enerieco riqualifica l'ex Aquater. È stato presentato il GEVA, ovvero dopo 18 anni ha annunciato un investimento di 20 milioni dell'azienda di ingegneria. Dopo 18 anni l'area dell'ex Aquater avrà una seconda vita e questo grazie a Enerieco SPA, una realtà internazionale con sede a Fano nella fornitura che si occupa della fornitura di servizi di ingegneria. Gli spazi industrializzati e abbandonati verranno riqualificati, questo a San Lorenzo in campo, per dare vita a progetti innovativi di economia circolare e lavorare a un futuro sempre più sostenibile sotto il nome di ERGEVA. Quindi grande opportunità. Sono importanti perché si svolgono dall'entroterra e quindi limita l'abbandono appunto di queste zone che sono più povere di servizi rispetto a quelli che ci sono nella costa. E vediamo anche la pagina di Senigallia. Bar e ristoranti nel limbo post alluvione. Ci sono degli operatori che ancora non riescono a ripartire dopo i danni subiti dalla alluvione. Dobbiamo capire se ci sono le opportunità, le possibilità per riprendere la nostra attività, hanno dichiarato diversi operatori. E in questo caso vengono alla ribalta le richieste del titolare del Caffè Italia, che è ancora chiuso, il re del gelato Paolo Brunelli e lo chef Michele Gilebbi. Sono tre settori questi che evidenziano le difficoltà di tutto un comparto che ha subito grossi danni dalla alluvione. Vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere Adriatico, dove si parla ovviamente del terremoto. Ancora il terremoto scuote il nostro territorio. Ieri si sono ancora succedute delle scariche di assestamento. Alcune di non lieve entità sono state avvertite distintamente dalla popolazione. Comunque il ritorno in classe è stato un po' come una liberazione dalla oppressione che determinano questo evento che dà ansia. Soprattutto c'è anche per esempio chi alla sera va a letto con un piede fuori del letto. Ecco, questo per dire come si sta sempre in allarme. Ritorno in classe per tutti. Vogliamo stare insieme, ma la paura non è passata. Gli studenti si sono rivisti dopo due giorni di scuole chiuse i racconti di quell'alba. Ciascuno racconta la propria esperienza e di come ha vissuto quei momenti terribili quando le scosse si sono succedute con notevole intensità. Vediamo anche degli effetti che il terremoto ha determinato nella città di Fano. All'inizio sembrava che non ci fossero grossi danni, poi i controlli meticolosi a vasto raggio hanno rilevato problemi non da poco. Per esempio è stato chiuso l'ambulatorio delle prove sotto sforzo nella cardiologia dell'ospedale Santa Croce dopo un sopralluogo tecnico effettuato ieri dai vigili del fuoco. E poi sono state individuate delle fessurazioni nella cinta della rocca malatestiana dalla parte del porto ed è crollato in terra un cornicione nell'ex chiesa di San Francesco. Questa è chiesa che dovrebbe essere consolidata perché è un reperto, una testimonianza archeologica di grande importanza e anche di grande suggestione visiva. Ebbene un pezzo oggi, un pezzo domani rischiamo di perdere tutto l'apparato neoclassico che è stato realizzato alla fine del 700-1800. Dopo l'intervento da parte dei vigili del fuoco è stato proibito anche l'accesso a tre abitazioni nella zona di Fenile. I parapetti in muratura dei balconi hanno spanciato verso l'esterno e ancora rimane chiusa un'ala del primo piano del palazzo comunale. Palazzo comunale però che è tornato ieri accessibile soprattutto per quanto riguarda i servizi dell'anagrafe e altri servizi, altri settori. La strategia per l'emergenza nel piano 55 aree di raccolta nel quartiere per quartiere ecco dove andare in caso di fuga obbligata. Anche Pesaro ha un piano di pronta emergenza, un piano di evocazione e ha individuato i punti, le aree di raccolta dei cittadini quartiere per quartiere in modo che la gente in caso di un evento di particolare gravità può uscire di casa e radunarsi in aree dove poi viene assistita in aree precise senza sparpagliarsi così in maniera disordinata. Centro storico a Pesaro decollano 12 progetti tra i recuperi e le residenze popolari. E' arrivata anche la prima tranche dei fondi PINQA PNRR, quei fondi che ancora Fano aspetta per finanziare due grandi progetti di grande interesse. Ebbene a Pesaro è arrivato un milione e mezzo su 15 assegnati, un milione e mezzo per mettersi al lavoro sui 12 progetti che potrebbero cambiare il volto del centro storico. Vediamo qui alcuni interventi che vengono progettati, che vengono fatti. E poi qualche notizia di cronaca, insulti al cacciatore che uccise il Pitbull. Vanno a processo in sette, c'è anche l'assessore Belloni. Il cane aveva aggredito l'uomo e uno Springer, l'assessore accusato di diffamazione. Gli altri sei di minacce. E' accaduto che un cacciatore aveva il suo cane. E' arrivato contro un Pitbull. L'uomo ha preso il suo cane, l'ha tenuto in braccio. Il Pitbull l'ha zannato lo stesso. Poi è arrivato tutto questo parapiglia e quindi ora si finisce in tribunale. Marche Nord assegna il maxi appalto per quanto riguarda la guardia medica, ma prevede anche quattro assunzioni a pediatria. Sono gli ultimi provvedimenti assunti dall'azienda ospedaliera. L'aggiudicazione dei servizi di guardia medica riguarda gli ospedali di Pesaro e di Fano, un servizio che la cui carenza si è fatta sentire in modo particolare nelle ore notturne. Al Medical Line Consulting SRL di Roma sono stati affidati 1140 turni presunti annui al pronto soccorso e 1416 euro l'uno, ribasso del 2,34 per cento per quanto riguarda l'offerta presentata dalla società, per un totale di 1.614.240 euro. Invece alla cooperativa Nuova Medica di Bologna sono stati assegnati 1160 turni presunti anni a pediatria a 1.398 euro l'uno, con un ribasso del 3,59 per cento per un totale di 1.621.680 euro. Questo il bando che è stato emesso, un bando che contempla il recesso dell'azienda nel caso in cui si risolva la carenza interna dei medici. Insomma si cerca di correre ripari, ma comunque la coperta è sempre molto molto stretta. Vediamo anche come a Cantiano si cerchi di salvare la turba, questa bella manifestazione che si svolge durante la settimana santa, il venerdì santo nel centro del preapennino pesarese. Turba 17.000 euro per ricomprare i costumi distrutti. Vedete qui come le corazze dei soldati romani sono stati rovinati dal fango. Questi 17.000 euro provengono da un contributo della Fondazione Carisp dopo l'alluvione, quindi la Cassa di Risparmio di Pesaro è intervenuta per salvare questa manifestazione che il prossimo anno dunque si farà. Vediamo anche la pagina di Urbino. Un record di fatturato per benelli armi ma con costi energetici quadruplicati. Questo è un po' un problema di cui si sobbarcano diverse ditte. Il direttore industriale Paolo Viti illustra i progetti di sviluppo con attenzione sostenibilità e cultura. Soprattutto l'importante presenza di questa azienda nel nostro territorio vuol dire economia, vuol dire assunzione, occupazione, insomma vuol dire un benessere diffuso. Chiudiamo il Corriere Adriatico e apriamo il resto del Carlino. Il resto del Carlino nella pagina di Fano apre con il sisma ferita a San Francesco, fessure anche alla rocca, evidenzia come questi beni culturali abbiano sofferto delle ultime scariche del sisma, del terrimoto. E ieri l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori con l'architetto della soprintendenza delle Marche, Simona Guida, ha cercato di quantificare i danni. Hanno fatto un sopralluogo per definire le modalità di intervento sia alla rocca malatestiana sia alla chiesa di San Francesco e che non sia la volta buona che si attui non solo un piccolo intervento di riparazione ma un progetto, ma si esegua un progetto complessivo di restauro, in modo particolare per San Francesco perché per la rocca insomma si è già intervenuti in maniera abbastanza risolutiva. A San Costanzo il terremoto ha causato seri danni a una casa e ha costretto all'evacuazione una mamma con una figlia. Si tratta di un stabile appunto in paese, in via San Fortunato nella zona conosciuta come Santa Croce, lungo la provinciale, che porta verso Fano. Questo è il sito dove era appunto la casa evacuata. Oscar ai fanesi meritevoli, si rilancia a cuore comune il primo cittadino. Una giornata dedicata a tutti quelli che hanno fatto qualcosa di buono per la comunità in silenzio e senza protagonismi. E questo è bello perché quando uno fa un'opera di carità, fa un'opera appunto benemerita e se lo fa senza fare tanto chiasso acquista ulteriori meriti. A San Lorenzo in Campo ripetiamo l'argomento dell'area ex aquater che diventa una Green Valley, dice oggi il resto del Carlino, grazie al progetto Ergeva che prevede la realizzazione di un laboratorio di coltivazione di alghe, un parco agrivoltaico e una piattaforma di ricerca scientifica. Sono le nuove frontiere della ricerca e soprattutto per quanto riguarda l'energia green, quella che non inquina, quella che è rinnovabile e quella che è a basso costo. Tutti vorremmo un'energia così a casa propria. A Urbino il teatro Sanzio, aperto quattro mesi, poi via i lavori. Verrà rifatto il tetto e tutta l'impiantistica e quindi verrà chiuso per qualche tempo, climatizzato per essere fruito anche in agosto quando la canicola impera e insomma rende scarsamente fruibile il teatro stesso. Il caldo torrido che si sviluppa all'interno durante l'estate lo rende inservibile. Vedete qui la fotografia del teatro Sanzio di Urbino che è situato proprio sotto Palazzo Ducale e comunque è la sede di una bella stagione teatrale. A Monte Cerignone Rocca Super con la nuova scala, un finanziamento di mezzo milione di euro per sette comuni permetterà di rendere il Montefeltro ancora più attrattivo ai fini turistici. Ed è bello andare a scoprire questi centri un po' disseminati nel Montefeltro dove si trovano inaspettatamente dei palazzi emanatestiani oppure dei borghi medievali di grande suggestione e bellezza. Alla base di questo intervento di cui parla il Carlino oggi c'è la volontà dei borghi coinvolti di creare un circuito economico che sia virtuoso dal punto di vista turistico. E per quanto riguarda la città di Pesaro, il resto del Carlino parla della scuola Olivieri. Vediamo subito il titolo. Scuola Olivieri, metà scolaresca, resta a casa. Una mamma, l'edificio ha insicuro da anni. Si è già parlato ieri in termini dubitativi di questa scuola mentre nelle altre scuole non sembrava che ci fossero stati rilevati dei danni a causa del sisma la scuola Olivieri destava qualche preoccupazione. Una valutazione preliminare a firma dei tecnici comunali risalente a febbraio scorso riconosceva che si erano verificati degli ammaloramenti e delle infiltrazioni. L'indice di sicurezza è stato calcolato intorno al 16%. Quindi insomma c'è un certo margine di dubbio. In una classe c'erano solo tre bambini su 23. Insomma le mamme sono state sul sicuro. I genitori chiedono certezze per la stabilità e la sicurezza di questa scuola. Sisma i vigili del fuoco in 250 case veramente hanno fatto controlli a tappeto sopra luoghi ovunque per le crepe. Atteso per martedì un resoconto dettagliato delle criticità più evidenti che meritano interventi urgenti. Vedete come queste indicazioni evidenziano le crepe. Qui ne vediamo per esempio una, si vede appena, non so se vedete questa fessura che si è aperta sopra l'architrave di questa casa, oppure altre fessure sulle colonne. Vediamo insomma Palazzo Gradari che ha risentito del sisma. La lampada dei Ricci per far rinascere il Partito Democratico, e qui siamo su un argomento di politica. Il racconto del sindaco sul non emigrato a Charles Roy. La nuova sinistra parta dal riscatto sociale nella testa e sul cuore tenga i minatori. Ebbene il sindaco ha voluto così parlare della rinascita delle PD tramite un racconto familiare e insieme ha così tirato in ballo un manifesto per la rinascita del suo partito. Vediamo qui l'articolo che riguarda le offese al cacciatore e l'assessore Belloni sotto processo. Danni all'edicola votiva, statuetta decapitata e quella di Padre Pio rubata una madonnina. Un atto altro vandalico, inqualificante. Strada scritta in inglese dubbed, poi un drappo nero. Il quartiere allerta i carabinieri. Un atto vandalico ieri mattina a Gabicce Monte, lungo la strada che porta a Gabicce Mare. E chiudiamo la nostra rassegna stampa questa mattina parlando anche di sport perché vediamo che una visse va a Montevarchi con la voglia del riscatto. Sassarini alla vigilia del match propone una idea per coinvolgere tutti in una manovra più incisiva per quanto riguarda l'assetto della squadra. alla vigilia appunto di questa partita. Sassarini alla vigilia del match proporre la nostra idea senza snaturarla e tutti coinvolti nella manovra. Valdifiori, incredibile, ha detto il tecnico. E per quanto riguarda Fano invece, vediamo che forse la squadra dovrà far a meno di una pedina importante. Si tratta di Broso. Broso infatti è in forse. L'attacco del Fano ai giovani ieri. La punta ha lasciato il campo prima per un risentimento. In preallarme, Serges e Brunetti per il vasto Girardi. Ebbene, l'attaccante punto di riferimento di tutto il Fano ha accusato un problema muscolare e questo è una grande perdita per la squadra. E questo è tutto. Quindi vi saluto e vi do appuntamento alle 7 di lunedì prossimo. Grazie per l'ascolto e risentirci.